Creare lavoro, opportunità lavorativa di fatto realizza una grossa fetta di quelli che sono per noi i diritti umani che non sono un valore astratto, ma è la possibilità tangibile per ciascuno di potersi autodeterminare. Il diritto a una carriera professionale dignitosa, a una inclusione sociale. Il progetto Be Woman cerca di dare un'ulteriore emancipazione alle donne, in modo che possano essere ancora più autonome, dando una formazione in un mestiere che non è il classico lavoro che può fare una donna migrante come l'apicoltora naturale. Creare quell'opportunità e quindi non soltanto una formazione astratta, ma generare proprio un'attività lavorativa che poi potrà rendere le beneficiari indipendenti. Grazie